Da un po' di tempo a questa parte girano su internet dei video Le differenze tra nord e sud Essi all'inizio potevano essere simpatici Adesso stanno letteralmente massacrando i Innanzitutto perché avendo praticamente terminato le differenze reali tra nord e sud Adesso gli individui che si cimentano nei video riescono a trovare differenze in cose univoche Come fanno la cacca al nord Come fanno la cacca al sud Questi video vengono essenzialmente e senza girarci troppo attorno Registrati col culo e senza alcuna cognizione di causa La ripresa è quasi sempre verticale Tipo così Che schifo Il cameraman, mi correggo, colui che registra è un totale deficiente Perché va ridendo tutto il tempo del video Troppo forte Quindi per tutta la durata del video sentirai la sua risata idiota Le doti attoriali dei personaggi sono inferiori a quelle di Gabriel Garco Per la serie che registro nel video e parlano sempre così Sì, sia che stiano registrando la parte del nord, sia che stiano registrando la parte del sud Perché pur sforzandosi non riescono a fare di meglio Ma quello che mi dà più fastidio è il loro modo di rappresentare il sud Nei video in questione viene rappresentato sempre un nord sobrio e quasi elegante È un sud totalmente ineducato e ignorante In poche parole non idonee a vivere in una società E mi mette veramente tanta tristezza Che il modo di colorire le espressioni del sud sia per loro motivo di vanto Quasi a volersi vantare dell'inciviltà Ma il sud non è composto solo dai incivili ignoranti e animali Pertanto vi inviterei a scrivere nei video Che questi comportamenti sono limitati solo a voi e a chi vi sta intorno E non a tutto il sud così come potrebbero pensare tutti gli amici nordici Detto questo, così come parodiato da Andrea Randazzo Il video è finito Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricotta da Palermo Lo trovi anche su Facebook Lo trovi anche su Twitter Ma vera, ci sono cose notate le vedo che le fesse Perciò noi siamo troppo qui da loro Non c'è una fra bella che durano noi E non c'è una fra bella